Chi volesse vedere contenuti inediti inerenti al podcast può trovare sul nostro profilo Instagram OneMoreTimePodcast Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in descrizione Io sono Luca e questo è OneMoreTime Ciao, bene Luca Andiamo Sei fresco? Vuoi rilassarti 5 minuti? No, no Sì, hai visto che mi ha chiedevo Noi siamo in una società dove il profitto Vince sulla cultura sempre Ma non è questione di cultura intesa come la storia o la cultura generale Parlo proprio di sensibilità Che cosa diamo alle persone se non sviluppiamo la loro empatia? Gli diamo solitudine È chiusura È individualismo questo Non c'è capacità di vedere l'altro Non c'è capacità di vedersi Di riconoscersi a vicenda e anche allo specchio È questo il problema per me Eccoci qua Piacere di averti qua Innanzitutto dimmi come vuoi che ti chiami Se Knight o William William, William Bella lì Allora parto dalla fine Hai già visto One More Time? Ho visto qualcosa Ho visto qualcosa E partiamo sempre dall'inizio Lo faremo anche noi Ma ho una domanda Che dovrebbe essere quella finale Perché ovviamente per studiare Non mi sono ascoltato solo i tuoi pezzi Mi sono guardato le interviste Più o meno C'è la trilogia della vita su S Magazine Ogni anno più o meno ha scandito Il tuo processo di maturazione Hai chiuso l'intervista ultima Con il buon Di Chele Dove gli hai fatto una domanda Sì Forse è più ombroso Non lo so Gli hai fatto questa domanda E poi gliene hai fatto una seconda Di approfondimento Chiedendogli da quanto Fosse più In delle vibes Più positive E quindi io ti faccio come prima domanda Voglio sapere come stai Perché ti vedo poco sorridere Quando fai le interviste E quindi mi piace il fatto Soprattutto in quest'ultima Ti prendi i tuoi tempi Rifletti Sei centrato Sei lucido Non sei impulsivo E questo è molto Maturo come atteggiamento Però voglio sapere Realmente come tu stai In questo momento Sono In un momento Mi sento molto curioso In tanti sensi positivi Ok Sono curioso di vedere Cosa scoprirò Ancora E se ci sarà un'altra crisi O se Probabilmente Perché la vita è così Però sto Devo dire Mi sento di dirti Che sto bene In questo momento Sono centrato Ho subito ripreso a scrivere Ok Ho una direzione Molto Chiara Di dove voglio andare A chi voglio parlare E poi E poi Sono Cioè Io non sono Uno che si prepara Troppo Mi preparo Emotivamente Forse Però Penso che La tua crescita Sia dovuta al fatto Che tu sia sempre più vero Hai cominciato A saperti ascoltare E essere consapevole Questo è il tuo punto di forza Vero? Sì Penso di sì Io ho sempre visto Che Questo l'ho notato Dai primi anni Che facevo musica Che Non sentivo Di mettere In scena Un personaggio Questo ha dei pro E dei contro No? Però Quando Lavori tanto Su te stesso Essere te stesso Forse È Una delle cose Più Potenti Una delle risorse Più potenti Che puoi avere Al tuo fianco Mi hai detto Che sei curioso Dell'esplorazione Della vita Di vedere Che cosa ti riserverà Il futuro Però me l'hai detto In un modo molto bello Vuol dire Accogliente Non sei più giudicante Ma sei aperto E questo ti fa vedere La vita a colori Sì Sì è vero Sono anche molto più Ben disposto Verso Un'eventuale Sofferenza Delle eventuali Sofferenze Perché so Che fanno parte Del percorso E mi ricordo Adesso Che ho un minimo Di esperienza Sono ancora molto giovane Ma qualcosa L'ho vissuta Sulla mia pelle Quindi So Quanto Sono importanti Queste Queste esperienze Per me Per la mia Per vivere Per sentirmi vivo Anche Molti ti definivano Il sinonimo Era rabbia E a volte La rabbia Non ha lucidità Quindi subisci Reagisci Secondo me oggi Le sofferenze Non le subiresti più Le analizzeresti E questo è Veramente Il punto di forza Di ogni essere umano Cioè io Tutti i giorni Non mi concentro Nei punti in cui Io sono bravo Ma nei punti in cui Devo migliorare Senza attribuirmi Un fallimento Per non essere stato In grado di Ma in un'area Di miglioramento Perché ho l'informazione Non la subisco Non la vivo male Ma mi dà lo sprono Per cercare di fare meglio Esattamente Partiamo dall'inizio adesso Quindi in che anno nasci? In che contesto familiare Nasci e cresci? Sì io nasco nel Nel 94 9 novembre del 94 Diciamo Sì fin da subito Cresco da solo Con mia madre Praticamente Perché Io ho Tre fratelli Tre fratellastri Da parte di mio padre Di una relazione precedente? Due di una relazione precedente Uno di una Successiva A quella con mia madre Non li conosci? Non li conosco E tuo papà? Mio padre Diciamole meno Nel senso che Per vari motivi Le cose La relazione con mio padre Non poteva continuare Tra mia madre E mio padre E Io non sono mai stato Riconosciuto da mio padre Rispetto agli altri figli Invece La differenza loro Finché poi Sono arrivato a Circa 11-12 anni Dove mi sono molto Imposto con mia madre Perché volevo assolutamente Riconoscimento Per una mera Questione Economica Ok Nel senso che Più nei suoi confronti Di lei Sì Perché vedevi i sacrifici Che faceva Esatto Allora Mia madre è stata Incredibilmente Matura Mia madre Mi ha avuto A 19 anni Quindi molto Giovane Mi ha sempre Parlato con onestà Fin da quando ero piccolo Mi ha sempre detto Tutto quanto Ma non mi ha mai Messo contro mio padre Mi ha sempre detto Io non provo Nulla di negativo Nei suoi confronti Perché Mi ha dato te E io da piccolo Non la capivo Questa cosa Ovviamente Che padre ti ha raccontato Di aver avuto Un compagno violento Geloso Sai Adesso che Non provo più Rabbia Nei suoi confronti Anzi In realtà Tutt'altro Devo ammettere Che non mi piace Neanche Dirlo Cioè Non lo dico Perché hai paura Di condannarlo E oggi Invece avete un rapporto Completamente diverso Allora Avete un rapporto? Eh Cioè Non è che abbiamo Proprio un rapporto Però vi siete conosciuti Vi siete parlati In tua età adulta Intendo Ci siamo parlati Un anno fa circa Ok Al telefono Perché io L'ho fatto ricontattare Tramite avvocati E gli ho fatto sapere Che ero interessato A Un confronto Cioè almeno un incontro Sì Eri in ansia Eri in ansia Quel giorno Ma In realtà Eri tranquillo Ti devo dire di no Ok Sì perché Sai Ora la prendo un po' larga Scusami ma È la cosa di cui Soffro di più Forse Riguardo questo argomento Ancora oggi E questo anche Verso i miei fratelli È che Non ne soffro Cioè che non Non riesco a sentirlo Questo legame Ok Cioè verso di lui C'è qualcosa che sento Anche prima di parlarci E Quando la rabbia Lo supera Quando la ferita Si è richiusa Ci ho lavorato ovviamente Però Quando si è richiusa Ho cominciato a Non lo so Anche quando ritrovavo Delle vecchie foto A sentirmi quasi fiero Di Di essere suo figlio Eh sì Di È una sensazione strana Però Mi sento di appartenere A qualcosa Capito Non che io non sia mai Appartenuto a niente A nessuno Perché appunto Ho avuto mia madre Però Una figura maschile Mi è Fortemente Mancata Io Sono dovuto Diventare un po' Padre di me stesso A un certo punto Sono io che ho dovuto Anche in età adulta Devo dire Mi sono dovuto Mostrare Le risorse Che avevo Per andare fuori A vedere il mondo Perché sai Mia madre è stata Una casa Ed è ancora Una casa Perfetta È casa mia Però Da solo Ho dovuto Imparare Ad andare fuori Questa figura Maschile Che ti è mancata L'hai trovata In qualcun altro L'hai cercata Nella vita In qualcun altro Certo Ovviamente Sono stato Pieno Di figure Paterne Che ovviamente Non erano La stessa cosa Però Ho preso Tanti riferimenti In giro Uno è Il compagno Di mia nonna Mio nonno Purtroppo È morto Di tumore Prima che io Nascessi Ok Parli di nonni Materni Sì 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 Tutta la famiglia Da parte Di mia madre E Quando io sono nato Mia nonna Stava già Con quest'altro uomo Che Un uomo incredibile Per il quale Provo un affetto Incondizionato E Ecco Lui è stata Una delle Prime figure Che mi ha Insegnato O comunque Mi ha mostrato Che cosa Significa essere un uomo Con i pregi I difetti Cioè Assolutamente Oppure L'ho visto Nei zii Nei fratelli Di mia madre Oppure L'ho visto In dei compagni Che mia madre Ha avuto Mentre io Crescevo Delle storie Importanti Che magari Ha vissuto Oppure L'ho trovato In Goku di Dragon Ball No? Nei cartoni O Nelle serie Nei programmi Sempre attratto Da figure forti? Da figure coraggiose Che potevano proteggerti In un certo qual modo? Mi sentivo Che volevo Essere così Perché ho sempre Da piccolo Ho sempre visto Forse anche inconsciamente Ho sempre riconosciuto Il mio padre Non la cattiveria Ma L'ho sempre visto Un po' Spaventato Ok Incapace di Incapace di Solo che Finché la cosa Mi colpiva Non ero disposto Ad accettarlo Invece Col tempo L'ho visto Molto più Chiaramente Ho visto Che dietro Verso i 70 Credo Non lo so Con precisione E ho pensato Che Sinceramente Se dovesse Succedergli qualcosa A lui A me Non aver mai Fatto un passo Perché sai Per tanto tempo Ho detto Se non lo fa lui Perché dovrei farlo io E poi a un certo punto Ho detto Ma questa è una cosa Che io faccio per me Non è questione Di orgoglio O di chi chiama prima O di Riguarda entrambi Ma Personalmente Sei in quel percorso Lo stai facendo Sì O hai in previsione Di farlo in futuro No Ecco Ci siamo sentiti Sai Siccome non siamo Nella stessa Città Ok Per vederci È un po' più difficile Semplicemente Va organizzata Per la logistica Ok E ti devo dire Anche che io Faccio fatica A prendere Questa iniziativa Ok Ti mette un po' In imbarazzo? No È che mi Hai paura di un rifiuto? No Neanche Mi impegna Ok Mi impegna Sai Devo entrare In una stanza Ok A fare questa cosa qui Un po' Disaggiante Lo è Capito? Cioè pensare Di dovermi Magari beccare A metà strada Quindi comunque Prendere Viaggiare Andare Vederci Parlare di che cosa Con chi No? Però Non ti nego Che Sento che Che ci voglio Pensare Comunque E quindi Cercherò Di ritagliare Lo spazio E il tempo Per affrontare Questa cosa Ti ha mai detto Di essere orgoglioso Di te? La prima volta Che ci siamo Sentiti al telefono Un anno fa Mi ha detto Qualcosa di simile Nel senso Che mi ha detto Sono molto contento Di vedere Dove sei Cosa sei riuscito A fare Ti sei emozionato O non ti ha fatto Né caldo Né freddo? Emozionato È un parolone Ok Perché Come ti ho detto Beh È stata comunque Un'emozione Sentire la sua voce Che nonostante io Non sentissi Da quando ero Veramente piccolo In due occasioni L'ho riconosciuto Subito Mi è arrivata Una chiamata Un giorno Non sapevo il giorno In cui mi sarebbe arrivata Quella chiamata Capito? Era in quei giorni A un certo punto Mi arriva Ero in studio Tra l'altro Esco un attimo Vedo questo numero Sconosciuto Potevo immaginarlo Infatti sento la voce E l'ho riconosciuto Quella è stata Un'emozione L'emozione Di quello che poi È la vita Del legame Che è incredibile Come sia Indissolubile Qualsiasi cosa accada Ed è bello Poterlo affrontare Con questa serenità Senza Conflitto Entriamo su tua madre La prima domanda Che faccio È come rimesso A coccole Perché questo Impatta molto Nella vita adulta Nelle sicurezze Che tu hai Perché è un affetto Dimostrato Fisicamente Ha un grande valore Come hai rimesso A coccole con tua madre In realtà benissimo Da questo punto di vista Anzi Mia madre è Quando parli di tua mamma C'è da una parte Una gratitudine Un rispetto Leggo nei tuoi occhi E quindi forse Leggo male Enorme E dall'altra parte Un conflitto Guarda In realtà Io Ritengo Che mia madre Sia Quella che Forse Mi ha avvicinato Di più Ma poi non lo so All'arte Mia madre È una donna Molto semplice Dà L'intelligenza emotiva Incredibile Incredibile Io tante volte Ho pensato Che mia madre Fosse nata Per Prendersi cura Degli altri È proprio La cosa che le riesce meglio Cioè sa Accudire il prossimo Sì Lo so fare E in più Perché ti dico Che è molto intelligente Emotivamente Perché Ha una sensibilità Spiccata È proprio Attenta ai dettagli Riconosce Mi stupisce Come possa essere Semplice Allo stesso tempo Così profonda E non a caso Ha avuto una grande forza Nel crescermi Nell'affrontare Sai Non è rimasta incinta Per caso Lei Mi ha desiderato Mi ha desiderato Era innamorata Di mio padre Molto La vera storia d'amore Sì Devo dire di sì Una storia complicata Però No Non c'è conflitto E che Sicuramente Sai Io mi sono Fatto carico Di tante cose Crescendo Cose Di cui Avrei anche potuto Evitare Di farmi carico Non era mio compito Da figlio Non era mio compito E lei ha anche cercato Di farmelo capire Più volte Ma io Non Non sentivo ragioni Perché volevi essere Un po' L'uomo di casa Volevo toglierci Perché Pensieri Problemi Sì perché la rabbia È stata così Predominante Ma comunque È una caratteristica Che ancora mi accompagna Anche in questa mia calma Dentro Ce l'ho Lo sento Però la sai gestire Molto bene Sto imparando Però perché Sono sempre stato Così arrabbiato Mia madre Non mi ha mai Fatto mancare nulla È riuscita Sempre A farmi vivere Una vita Incredibilmente Dignitosa Ma io ovviamente Intuivo L'instabilità Che c'erano C'erano ovviamente Di periodi Più difficili O delle cose Un po' particolari Sai quando non devi Rispondere al citofono Perché Potrebbe essere Qualcuno Che chiede soldi O perché Qualcuno Che ci vuole Cacciare di casa Situazione del genere I bambini Vedono tutto Intuiscono Tutto quanto E quindi io comunque Questa cosa La percepivo La percepivo La percepivo Questo mi ha Innescato Una Grande Ansia Riguardo Lo spendere i soldi Nel senso che Anche Avendone poi avuti Hai saputo Come dire Amministrarli Con parsimonia Mi verrebbe da dirti Allora ti racconto Questa cosa qui Mia madre Ad un certo punto Durante la mia adolescenza Ad ogni compleanno Raccimolava Praticamente faceva Un salvadanaio Ok Con tutte monete Da 2 euro In maniera che Quando poi lo aprivo C'era una bella somma C'era una bella somma Non c'era Le spicciolate Allora Ad ogni compleanno Io aprivo Il salvadanaio E contavo Quello che Che usciva fuori Io Ancora oggi Ho quelle monete Da 2 euro In dei sacchetti Non le ho mai spese Non le hai neanche mai cambiate Con la carta Mai Forse Guarda Uno di quei Salvadanaio Di vari Che c'erano L'ho speso Forse una volta L'ho speso In un viaggio I soldi Di quel salvadanaio Ma La maggior parte Ce li ho ancora Chiusi In dei sacchetti E stanno lì Perché Ragionavo sempre Dicendo Ok Questi li metto Da parte Perché Devo farci qualcosa Di importante Ne devo generare altri E io dicevo Dobbiamo uscire fuori Da questa situazione Mi sentivo Sempre di Che ci fosse Questa rincorsa E devi preoccuparti Delle bollette E poi Se c'è una multa Oddio Come facciamo Qualsiasi Cosa Devi pensare Ai soldi E quindi Questo in realtà Mi ha Su certe cose Mi ha traumatizzato Su altre Mi ha dato La grande opportunità Di rendermi conto Di dare valore Molto prima Dei miei coetanei A quei tempi Mi sono reso conto Molto presto Di quanto I soldi In questa società Purtroppo Fossero importanti Per fare certe cose Non perché I soldi in sé Sono importanti Dipende poi Quello che vuoi fare Ma anche banalmente Per la sopravvivenza Che quindi Quello è il minimo Indispensabile Per vivere Esatto Esatto Cioè io Ho fidato da subito Che Se non mi impegnavo Avrei continuato A rincorrerli Per tutto Il resto Della mia vita Quando tu Cominciavi a mettere Da parte I soldi O pensavi al futuro Di mettere da parte Sempre Un tassellino In più Cosa sognavi Di fare Con quei soldi Da grande In realtà Io non lo sapevo Sapevi che andavano Messi comunque Da parte Io dicevo Li tengo Per quando Mi serviranno Ok Perché sapevo Che a un certo punto Avrei fatto qualcosa E mi sarebbero serviti Per investirli Era questo Quello che Dicevo Non esiste Che non farò nulla Che non mi creerò Una possibilità A un certo punto Io mi creerò Una possibilità E quando mi serviranno Li userò Poi la possibilità Me la sono creata E non mi sono serviti Ok Ho sentito in una tua canzone Che tu Che voi Tu tua mamma Abitavate in un monolocale Insieme Se non sbaglio A dei tuoi zii Degli extracomunitari Che situazione era Come hai vissuto Quei momenti Adesso non vorrei fare Una domanda Retorica e banale Ma voglio entrare Nello stato d'animo Di quegli anni No Diciamo che In certi anni Abbiamo condiviso La casa Con due persone Extracomunitarie Per una serie di motivi Ci siamo trovati In quella situazione E' stato un po' strano Perché io comunque Se non erro Andavo alle elementari Barra medie Non era semplice In quel caso Non ero in un monolocale Ok Quando parlo Del monolocale Era questa casetta Dove praticamente C'era soltanto il bagno E poi una Piccola soffitta Che in Tirea Non era abitabile Ma dove noi avevamo Due letti Ok Il letto di mia madre Il letto mio E in quella situazione A un certo punto Ci siamo ritrovati Con i fratelli Di mia madre I miei zii Che vivono Anche da noi Anche lì Per una serie Di motivi E per me È stato Non ti nego Stressante A livelli Veramente alti Non ce la facevo Non avevo I miei spazi C'erano tante Dinamiche Là dentro Che non funzionavano E a un certo punto Io sono Cresciuto Tanto da dire O torniamo ad essere Io e te A mia madre Oppure io me ne vado Ma a 12 anni 13 anni? No Questa cosa Perdona Non te l'ho detto Questa cosa È successa dopo Avevo 16 Sì Dai 16 18 Era quello Più o meno Il periodo Quindi Per quello Ti dico A un certo punto Sono cresciuto Abbastanza Da dire Senti Se qui le cose Non cambiano Quindi mi sono Un po' Imposto C'è stato un conflitto Anche con i miei zii Che poi Nel senso Si è Si è riappianato Sì Quando hai scoperto Il tuo talento Per tutti Il tuo talento E essere una grande penna Ancora prima Di qualsiasi altra cosa E trasportarla Nella musica E saper portare In scrittura Degli stati d'animo Molto importanti C'è chi non scopre Mai il suo talento Chi lo scopre A 40 50 Quando è che hai capito Che avevi qualcosa Di speciale Io Mi sono sempre sentito Particolare Ok Cioè fin da quando ero piccolo Avevo una sensibilità Molto spiccata Ti ripeto Forse anche perché Mia madre me l'ha Me l'ha trasmessa Molto In età precoce Parlandomi Con onestà Trattandomi con onestà Mi trattava come Magari un bambino Ma non come uno stupido Ok È stata molto brava In questo secondo me E vivendo certe cose Anche forti Fin dall'infanzia Appunto si è sviluppata Questa cosa qui Quindi ho sempre sentito Di avere Prima di pensare Alla musica Volevo fare L'architetto Oppure mi sarebbe Piaciuto addirittura Entrare in Marina militare Perché la Marina Avevi visto un film Una serie Qualcosa ti aveva illuminato Forse Volevo sentirmi Un uomo Ok Non lo so Volevo sentirmi Un uomo forte Perché la Marina Per te era Addestramento Viaggiare Indipendenza Disciplina Rigore Ok Chiaro Però In realtà Io sono proprio Una persona creativa Molto più Che una persona Ed è lì che volevo arrivare Hai parlato di arte Prima Quindi questa cosa Ce l'hai dentro di te Questo click Da sempre Però Prima di capirlo Nella musica In cosa ti vedevi Artista? Avevo delle Audiocassette Che mia madre Registrava Dove Recitavamo Shakespeare Insieme Ok Magari Romeo Giulietta Mi piaceva molto Oppure Passavo intere giornate A registrare Col videoregistratore Tutti i video Musicali All music Su MTV Vedevo queste cose Dicevo Questa roba è incredibile Voglio entrare in questo mondo Ma non Lavorativamente Dicevo Voglio entrare in questo mondo Fantastico Questo Luna Park Questo mondo fatato Questo mondo Appunto creativo Effetti speciali L'avresti voluto fare come regista? Come creatore di quella cosa lì? Volevo semplicemente realizzare Quella cosa lì Che poi io fossi il protagonista Il regista Questo forse non lo so Però volevi respirare quella cosa lì Sì E come ti muovi? Mi ricordo che facevo Quando mi portavano al paese Da mia nonna Andavamo tipo in ristoranti Che avevano il karaoke E io cantavo Parecchie cose Ero un po' Fomoso In questi ristoranti Di paese Perché era un bambino Che cantava Si metteva proprio lì A fare quelle cose lì Però Ecco Era ancora Molto presto Quali erano i cantanti Che ti hanno influenzato Quando eri ragazzino? Guarda È difficile dirtelo Cioè mi ricordo Io ho degli sprazzi Dei video Dei Ram Ok Tanto Eminem Però Eminem è arrivato dopo Pure col rap I Maroon 5 Tutta la roba che passava Su MTV A quei tempi I The Servant I Green Day Era tutta Quell'epoca di Molto attuale Di quei tempi lì Di quando avevo dieci anni Che sarà stato 2000 e qua I primi anni 2000 Comunque E la roba lì Mi piaceva molto In più mia madre Mi faceva sentire L'italiano Alex Baroni Che ha una voce bellissima Incredibile Quindi cultrice Della musica Tua mamma? Sì Sì Come si chiama innanzitutto Tua mamma? Daniela Daniela ok Mi ricordo Una scena Di quando stavamo in macchina Mentre C'era questa canzone Che non mi ricordo mai Come si chiama Quella che fa Cammi 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 Ok c'era perfettamente presente Ma il titolo Non mi ricordo E mi ricordo Che lei mi batteva le mani A tempo di musica E mi diceva Vedi senti il ritmo Questa cosa Me la ricordo tantissimo Cioè Proprio come la prima volta Che ho capito Il ritmo E sentivo Il battere delle mani Oltre che Solo la linea vocale Per quello Mi ha trasmesso Molto questa sensibilità Verso Anche la musica Ed eravamo Nei karaoke Dove andavi Ti divertivi Cantavi Eri abbastanza noto Perché eri un bambino Che se la cantava bene Da bambino Da ragazzino Però ecco Poi è passato tempo Appunto C'è stata questa cosa Magari Mi sarebbe piaciuto Fare l'architetto Studiare A mia madre Sarebbe piaciuto tanto Che io studiassi Che io fossi Un buono Sei arrivata La maturità O hai mollato Prima Ho mollato E poi ci sono Arrivato Dopo Ok L'hai finita Hai finito il ciclo L'ho finita Ma sono passato Per un sacco Di indirizzi E istituti diversi Per una questione Di disciplina Sì Perché ho scoperto Il rap Poi ho 14 anni Che ti ha fatto Come dire Fomentare una ribellione Dentro di te No il rap Mi ha fatto proprio Canalizzare l'attenzione Solo sul rap Cosa vuol dire Il rap per te Quando io ho scoperto Il rap Ho cominciato a scrivere A registrare Io ho subito iniziato A scrivere A registrare A fare tutto Non solo a scrivere Quando ho iniziato A scrivere Ho iniziato anche A registrare E quindi andare Direttamente in studio E provare Perché avevi amici Che avevano Piccici e roba Amatoriale Easy Che ti potevi permettere Che sono le stesse persone Con cui stai facendo musica Adesso O no? No Cioè 3D Piuttosto che No 3D è arrivato Dopo Perché io ho iniziato A 14 anni Proprio al primo liceo A metà tra il primo liceo Credo E Dopo circa un anno Infatti Sono andato a registrare Da 3D Ai tempi Costava 20 euro Una registrazione Ok Che per me era tanto Avete la stessa età? No 3D è più grande di me Ok Adesso ha 40 anni Ah ok Questo è stato anche Un grande punto di forza In realtà Avere un produttore così Con l'esperienza Con un gusto Un'esperienza Una Visione E quindi Vado a registrare da lui Con un altro amico Paghiamo questi 20 euro E quando Entro io a fare La seconda strofa Del pezzo Quando esco 3D subito mi dice Ma Da quant'è che rappi tu? E io dico Da un anno Nemmeno Più o meno Così Da qualche mese Quasi un anno E lui Diciamo Mi notò subito No? Ma io Già dai primi tempi Già dai primi mesi Nell'ambiente Dei rapper Molto underground Così Io ero una spugna Sentivo quello Quello mi diceva Prova a fare questa cosa Io il giorno dopo La rifacevo Identica E in più Mi chiudevo Io mi alzavo Mi mettevo le cuffiette Quando uscivo con i miei amici Avevo sempre le cuffie Addosso Anche se non c'era musica Mi dicevano Cosa sto ascoltando Nulla Ma al primo momento di Mettevo la musica Pensavo Ho iniziato a pensare Alla musica Dal primo momento Che aprivo gli occhi Della mattina Fino all'ultimo Che li chiudevo Per andare a dormire Pensavo solo a quello Scrivevo un sacco di strofe Ogni giorno Sempre E comunque Notavo quindi Un miglioramento Dove li prendevi 20 euro Per andare in studio Se eravate un po' In difficoltà Li raccimolavo Poi mia madre Ogni tanto qualcosa Mi dava Quindi In più Avevo ottenuto Il riconoscimento Di mio padre A un certo punto Quindi ti dava Un po' Una mano Nì Nì Nel senso che era Veramente Un nulla Però Nel senso Me la gestivi Li investivi lì Non ti nego Anche che Poi ho scoperto Il fumo L'erba E per Cioè Intendi da Rivenditore E da consumatore Entrambe Anche perché Io non volevo Assolutamente chiedere I soldi a mia madre Per pagarmi Quei vizi lì Quindi ho cominciato A cercare di Essere un po' Più autonomo Su quella cosa lì Con i mezzi Lei non lo sapeva Che vendevi? No 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 Non ho mai saputo Questa cosa qua Poi sai Con il tempo Io le ho sempre Detto tutto Certo Non è mai stata Condiscendente Se una cosa Comunque Se quella cosa Ti veniva conto Però sapevi Che ti supportava Sì Sapevo che La cosa bella È che comunque Lei Mi ha sempre fatto capire Che potevamo Parlare di tutto Quindi anche se Qualcosa Non la condivideva Comunque Io sapevo Di un certo modo È ovvio Che un po' Di paura Ce l'hai Quando sei un ragazzino Però Sapevo che Potevo sempre parlare Con lei Di tutto quanto E ancora oggi così? Sì Sì Assolutamente Siamo proprio Amici Oltre che Genitore figlio Ecco Come si evolve la situazione? Nel senso che tu vai da 3D Fai delle sessioni Sei una spugna Ti insegnano tecnicamente Delle cose Tu il giorno dopo le replichi Quindi a un certo punto Ti senti sempre più armato Nel senso Pronto E? Sì A un certo punto Io e 3D Facciamo Un pezzo insieme Quindi prodotto da lui Quanti anni hai? Tra 15 e 16 Poi esce quando ce ne ho 16 Ti ricordi il nome del pezzo? Sì Si chiamavano Story E ci faccio il mio primo video ufficiale A quei tempi i video erano ancora un po' rari Si iniziavano a fare da poco Era morto da poco MySpace Ed era arrivato YouTube I pezzi cominciavano a essere caricati su YouTube Ed essendo un pezzo prodotto ufficiale Che poi sarebbe stato nel disco di 3D anche Facciamo questa cosa qui E il pezzo riceve un riscontro molto forte Ok Mi scrivono anche su Twitter Rapper affermati grossi Per farmi complimenti E noto che quindi Mi faccio conoscere a un gran pubblico Al grande pubblico del rap A quei tempi Parliamo del 2011 Che stava lentamente crescendo In quel periodo Gli unici artisti mainstream che c'erano Erano Rilevanti Erano Fabri Fibra I Club Dogo E Marrakesh E iniziavano ad arrivare Amy Skilla e Fedez Erano questi cinque Non c'era Sorrido perché sono le reference di tutti Quelli che hanno più o meno la tua età Chiarissimo Esatto Iniziavano a crescere questi rapper qua Poi io Iniziavo a non ascoltare più troppo rap italiano Perché sentivo che mi influenzava troppo Poi prendevo troppo Quelle direzioni Quelle direzioni lì E cercavo una mia Però diciamo che quindi lì arriva un boom Un'etichetta indipendente Diciamo mi avvicina Una storia folle Che non so Anche volendo non saprei proprio spiegartela Fali di Oniro? No Perché erano gli anni dove Oniro Era un po' una factory romana vero? Sì 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 Però io non ero in Oniro Sono stato in un'altra etichetta Ed ho firmato questo contratto Che però mi ha un po' segato le gambe A parte che era un contratto Che oggi non farei firmare neanche a Lo so A un animale Ma a parte questo La persona con cui mi trovavo a lavorare Avevi 16 anni più o meno? 16 anni Dai 16 ai 18 è durato questo contratto Questa persona con cui mi dovevo relazionare Per lavorare Era totalmente fuori di testa Impossibile farci un discorso Una persona che non si rendeva conto Di quello che era la scena Il mercato Non ti diceva le cose Non ci riuscivi a parlare Poi gli mandava papiri su Whatsapp Era una situazione dove Mi ha rallentato parecchio Per fare il mio primo disco Che ho fatto con loro Cioè mi hanno rallentato un sacco E poi ne ho fatto un secondo Che non è mai uscito Perché continuavano ad esserci problemi A un certo punto sono intervenuto Per vie legali E sono riuscito a scendere dal contratto Con non poche difficoltà Guarda io ne parlavo con Jay Axe Nella sua intervista Dove spesso tutti gli artisti Si lamentano del loro primo contratto O per una questione economica O per una questione di libertà Anche artistica Però poi io credo Che sia una grande scuola Di formazione Assolutamente Penso che se tu Non hai l'occasione Nella vita di vivere certe cose Non saprai mai farle Quindi oggi Forse sei molto più sgamato Sei molto meglio Quello che tu vuoi E sai anche gestire bene Il tuo perimetro artistico Perché hai avuto la possibilità Di vivere diversi scenari prima Quindi non credo che siano due anni buttati Ma credo che sia un grande investimento formativo No assolutamente Anzi guarda Io l'ho sempre detto Di questa situazione Come di tante altre Difficili Ho sempre detto Se riesco a uscire Da questa cosa qui Sarò super contento Di averla passata Questa cosa qui E fortunatamente Ne sono sempre uscito Da quelle situazioni E a 18 anni che succede? A 18 anni succede che Poco prima di scendere Stavo veramente male Cioè vivevi emotivamente male Quel momento? Sì Perché ti sentivi imbrigliato Sì parecchio Sono stato parecchio male Ho fatto anche un po' di cazzate Di cose Che avrei preferito Evitare o gestire meglio Però alla fine Sono riuscito a uscire Da quella cosa lì E mi sono rimesso a lavorare Con 3D Con la quale avevo un po' Interrotto Per via di questi problemi Contrattuali E ci rimettiamo a lavorare Con WNT1 Che poi è la nostra In realtà Che ha fondato lui L'ha fondata come proprio In generale come titolo Che ci rappresentava Come collettivo Diciamo Come realtà Collettivo Oltre a voi due Chi altro? Eravamo altri artisti Diciamo Più underground A quei tempi C'era tutta la torre di controllo Erano Mister Cioni Pordinero Pattata Facevano tutti parti Di questo gruppo Di 3D Che registrava Il bunker studio A un certo punto Si è aggiunto pure Matteo Sainte Che era il ragazzo Con il quale avevo iniziato A fare rap Fatto sta che Ovviamente Il tempo era Limitato Nel senso che Ce lo dovevamo gestire Un po' Tra di noi Però Non ti nego Che io notavo Di essere Quello che si dedicava Alla musica Più di tutti Avevo anche la fortuna Di essere Uno dei più giovani Lì in mezzo Potevo permettermi Di non pensare A certe cose Quando invece Devi affrontare Certi discorsi A 23 anni E comunque Devi lavorare Magari Hai una ragazza Stai pensando A certe cose Devi dividere Il tempo E i pensieri Invece io pensavo Solo alla musica E quindi Soffrivo un po' Di non avere Abbastanza tempo Per lavorare Alla musica Come volevo Però dicevo Allora dicevo Questa cosa Me la conquisterò Assolutamente E quando succede? Succede gradualmente Perché piano piano Io lavoro Sempre più intensamente Sulla musica Capisco anche Come gestire Il tempo E lo spazio E canalizzare Più attenzione Sui progetti Miei Che avevo in mente E gli altri Perdono invece Sempre più interesse Nel tempo O più costanza Più che altro E quindi Piano piano Rimaniamo Praticamente Solo io E 3D E a un certo punto Lavoriamo Alla mia roba Proprio Martellando Sempre Non lo pagavi più? Eravate una cosa unica? Esatto Era una cosa unica Come se facciamo Musica insieme Quindi No sì Ormai non lo pagavo più Da tanto tempo Le registrazioni E tutto Quindi lui credeva in te Perché voi due Eravate il progetto Sì abbiamo proprio Lui mi produceva la roba Io ci rappavo sopra Quindi Quando c'è il primo momento Di svolta Di switch Dove succede qualcosa? Il primo Tu conta che torno Indipendente Nel 2014 Quindi Iniziamo da lì A lavorare Indipendente Rispetto alla scissione Contrattuale Di cui parlavi prima? Sì Iniziamo a vedere Qualche piccolo introito Niente di che Dal Seconda metà del 2017 Quando inizia un po' A farsi più Forte Spotify Quindi sei stato In perterrito Senza mollare Quattro anni Senza guadagnare niente Sì A un certo punto Infatti Che succede? Io ho lasciato scuola Alla fine del terzo superiore Dopo che mi avevano bocciato Due volte Al secondo E una volta In seconda media Ero un po' Un disastro Da ragazzino Vado a lavorare E poi a un certo punto In tutto questo periodo Nel 2016 Torno a scuola Affronto la maturità Una delle cose più stressanti Della mia vita Non si sa quanto ho studiato In quell'anno E non so neanche come ho fatto Veramente Quanto prendi? 70 Ok Forse ho preso anche un pochino di più Lo sai Non mi ricordo Però 70 Ma comunque alla fine Da non sapere se l'avresti passato o meno Cavolo Devo dire che Cerco di vedere se mi interessava Andare tipo All'Accademia delle Belle Arti O all'università Per questo ho preso il diploma In realtà Vado a fare un test d'ingresso Per Scenografia Se non erro All'Accademia delle Belle Arti Che passo perché è abbastanza semplice Ma non ci torno più Perché non appena mi riconfronto Con l'istituzione Dell'istruzione Hai capito che non era roba Vedo proprio che non mi piace quella roba Perché oltre a pensare solo alla musica Mentre crescevo ho cominciato ad avere proprio un rifiuto Verso le istituzioni E verso un certo tipo di imposizioni E di sistema antiquato Spesso parli di questo Nel senso Parli di ribellione Contro i sistemi Ma non ho capito quali Quello che veramente mi fa arrabbiare È questa enorme disparità Ok Questa diseguaglianza proprio accentuata Questa insofferenza pure Verso questa disparità Questa mancanza di Appunto di presa di coscienza Quello che noto tante volte Quando vedo parlare anche persone colte Intelligenti Che però sono in una situazione economica Un po' più adagiata Devo dire Spesso mi succede di notare che Smettono di ricordarsi Di come vivono le persone Che non stanno in quella situazione Ok Io sono molto a contatto con I miei amici E persone che hanno dei problemi Veramente del cazzo Dove li vedo proprio In trappola È difficile uscirne E li vedo arrabbiati Molto più di come sono io oggi E non ti nego che Io la sento un po' mia Questa rabbia qua E senti che manca una rappresentanza? Assolutamente Sento che non hanno la forza Loro di trovare la propria voce E che non c'è nessuno Che parla di loro Non parlo di politica e basta Parlo di tutti Parlo di tv Parlo di personaggi Di chiunque abbia il potere In media o le persone Di arrivare agli altri Alla massa Che ha visibilità anche Ci si arrabbia troppo poco Secondo me Ti faccio una domanda Perché io sono molto pratico Sì sì Se tu potessi scendere in politica Dico la politica Perché la politica È una regia Del governo del paese E potessi avere un ruolo Influente Importante Che può avere un impatto Sulla comunità Cosa faresti? Allora Prendo un esempio Magari io la semplificherò Perché magari la sto semplificando Ma se io sono Un allenatore Un calciatore Ok Anche Italiano Non subisco nessun tipo Di discriminazione Eccetera E sento Uno stadio Che inneggia Continuamente a cori razzisti Io Mi dovrei veramente Incazzare come una bestia E dovrei proprio Mettere questo tema Al centro di tutto quanto Cioè questa cosa Non deve succedere Non è che Ah oggi mi arrabbio E domani torno a giocare E risuccede la stessa cosa Questa roba Non deve succedere Bisogna affermarsi Quando succedono queste cose Perché se non ci si ferma Se non si alza la voce Cioè questa roba continua E anzi Si rafforza pure Perché quando io mi lamento E il mio lamento è innocuo È effimero È Non serve niente Capisci? Se non a peggiorare Ancora di più le cose Ora ho fatto questo esempio Un po' Però io lo prendo Succede E Multano la società Danno Magari il daspo Ad alcune persone Che sono allo stadio Quindi danno Delle punizioni Però continua a succedere Cioè io Comprendo quello che tu dici Dove tu dici Ci sono delle persone Che stanno Tra virgolette In poltrona E tantissime persone Che vivono dei disagi Non sono rappresentate Continuano a viverli E non ci vedi soluzione Per questo che ti ho detto Se tu potessi scendere in campo E potessi fare qualcosa Che cosa faresti? Perché a volte Punire vuol dire Aizzare Alla violenza Infatti io non parlo mai Di punire Parlo di Alzarsi in piedi Che è diverso Noto che chi lo fa Non è così efficace Non mantiene così tanto Il punto Alla fine La società deve continuare Capito? Deve continuare ad andare La macchina Si deve continuare a muovere Ci sono troppi soldi dietro Per poter Dire no Adesso ci fermiamo un attimo Qui di fronte a questa cosa qua È sempre così Su tutto Su tantissime cose Il fatto è che Per cose così grandi Ci vuole tempo Ci vuole un cambiamento Che è graduale Non è Soprattutto Io penso tanto alla cultura Cioè noi siamo In una società Dove il profitto Vince sulla cultura Sempre Ma non è questione di cultura Intesa come la storia O la cultura generale Parlo proprio di sensibilità Che cosa diamo alle persone Se non sviluppiamo La loro empatia? Gli diamo solitudine E chiusura E' individualismo Questo Non c'è capacità Di vedere l'altro Non c'è capacità Di vedersi Di riconoscersi A vicenda E anche Allo specchio E' questo il problema Per me Perché io lavoro Nell'arte Perché oggi Si possono dire Un sacco Di cose Noi stiamo qua A parlare Si possono fare Tanti podcast Tante conferenze Le persone Le persone Le persone di cui parlo Soprattutto Sono stanche Non gliene frega Più Niente Tutto sembra Una farsa Continuamente Quando le persone Non hanno più speranza Lì nasce La rivolta Ma noi siamo Intontiti Siamo in questo limbo Capito? Dove un po' C'esperi Un po' Vieni anestetizzato Continuamente Dai social Le droghe leggere Pesanti La tv L'intrattenimento Cioè Ti dicevo Perché lavoro Nell'arte Perché L'unica cosa Che oggi Sento di poter fare Che è la cosa Che mi interessa Di più E' parlare Alla pancia Delle persone Se io sono in grado Di farti entrare In empatia Con qualcosa Sono sicuro Che ti si sblocca Qualcosa E Non te lo dico io Te lo faccio fare Il pensiero di Non ti posso dire Tutti hanno il diritto Di vivere Di scegliere Secondo me Se non lo Pensi già tu Di tuo Deve succedere qualcosa Che te lo fa pensare Che te lo fa sentire Soprattutto Per questo Io non sono Molto pratico In queste cose qui Perché Non ho studiato Per questo Non voglio Affrontarla Con presunzione Con la roganza Di dire Cosa andrebbe fatto Però sicuramente C'è Troppo Poca Sensibilità E quando cerchi Di essere sensibile È lì Che tante volte Cercano anche Di farti passare Per debole Che è tutto Il contrario Invece Con il mio podcast Credo che abbiamo Una cosa in comune Molte persone Mi dicono Fai esattamente Le domande Che avrei voluto Fare io alla persona Precisamente in quel momento Quindi le persone Si medesimano Cerco di portare Storie di persone Che hanno sofferto O stanno soffrendo Che la sofferenza È Iperformativa Si Però voglio dare Un messaggio chiaro Attraverso il mio podcast La speranza Utilizza la vita Degli altri Per avere degli esempi Perché potresti Ritrovarti In un pezzo Della sua vita E avere L'esempio Di cosa succede Se fai quella cosa Prima di farla tu Anche se poi È molto formativo Viverlo su Se stessi E quindi Voglio dare la speranza Di dire Nessuno è migliore Di un altro Ma se non hai voglia Tu sei l'unica medicina L'unica salvezza Di te stesso Nessuno lo può fare per te E quindi è lo sprone Per dire Ce la puoi fare Tranquillamente Ci devi credere Devi lottare Devi avere fiducia Devi amarti Devi essere amabile Col prossimo Perché se sei incazzato Con gli altri Ricevi una risposta Rabbiosa Quindi non riesci a costruire Il mio messaggio è Sei all'altezza Di fare tutto Quello che tu hai sentito Non siamo migliori di te Qual è il messaggio Che vuoi dare Con la musica Questo è proprio In realtà Si sposa molto Perché io valorizzo Tanto gli altri Più che me stesso Anzi C'è una cosa Che mi ha detto Un giornalista Molto bella Mi ha detto Tu non hai proprio Nessuna pietà Di te stesso E un'altra persona Mi ha detto Il potere Che utilizzi Di cui fai uso È contro te stesso Non è contro gli altri Io cerco di mettere Gli altri Al centro Quindi perché Io stimolo domande E cerco di stimolare Pensieri Invece che Mettermi lì A dare risposte Che poi sarebbero Magari anche errate Capito? Ecco Un'altra cosa Proprio in virtù Di questo discorso A me non piace L'idea di Arriva uno E salva tutti quanti Anche perché Se arriva uno E salva tutti quanti A un certo punto Rifiniranno tutti quanti Nello stesso Buco Capito? Invece ci dobbiamo aiutare Dobbiamo crescere insieme Questo significa Che È un processo Lungo Devi iniziare a pensare Molto più Levando questa lente Di ingrandimento Sulla tua vita E vedi che in realtà C'è molto di più Devi pensare Più lungo raggio In maniera molto Più complessiva E in più Quello che cerco Anche di comunicare È che la solitudine E questa è una cosa Che mi è stata detta Quando si cerca E si ricerca La verità È una strada Fatta anche Di solitudine Dobbiamo abbracciarla Questa cosa qui Rispetto al lungo termine Hai fatto un'intervista Con una persona Che stimo Che è Max Brigante Lo stimo Perché è discreto E lo conosco Da tantissimi anni Da quando lui era Socio di Gagliani In Hip Hop TV Cioè aveva fatto Le sue reti Quindi è partito Sempre lo profile Senza raccontare Agli altri Quello che faceva Oggi è un manager Di artisti Molto interessanti Ti ha detto Una cosa Molto bella Dove ti ha detto Ci sono due tipi Di artisti Quelli che cavalcano Il momento E fanno la cosa giusta Adesso per funzionare E quelli che vogliono Lasciare il segno Nel tempo Quindi scrivono Musica Che permanga nel tempo E tu fai parte Di quella categoria Poi sono molto interessato Il tuo racconto Per un motivo Perché tu hai A volte le persone Che si ribellano Si ribellano e basta Senza avere una vera motivazione Ma solo per andare contro Il sistema Ma poi tutto ciò Che fanno Nei fatti Non funziona Mentre invece Quello che tu hai fatto Fai un album Senza fit Non fai Nessun pezzo Che voglia essere Una hit Non fai nulla Di commerciale Fai tutto ciò Che senti dentro di te E guarda il caso Mentre parliamo Tu sei il secondo album In questo momento Più ascoltato in Italia Hai raggiunto dei risultati Andando completamente Contro il sistema E vuol dire Che la tua strategia Che poi non è altro Che lo specchio Di quello che tu sei Veramente Sta funzionando E questo mi interessa Perché non sono Grandi discorsi Efimeri Ma è forse anche Una strategia Vuol dire avere Le idee chiare Essere Degli strateghi Forse a volte Può sembrare Tutto artefatto E finto Per arrivare A uno scopo Quindi Il fatto che possano Permanere le cose Che tu fai Il fatto che Stia pagando Quello che tu hai fatto Il fatto di essere vero E quindi questo Ti ha fatto arrivare Ancora di più Alle persone Quindi Sono partito Dalla fine Nel senso Che tutto ha funzionato Racconta L'escursus Sai cos'è Che io ho fatto Tanta gavetta Finché nel 2018 Faccio questo pezzo Che mi esce di getto Che si chiama Gli occhi della tigre Col quale esco fuori E fa un boom Pazzesco Quello mi fa entrare Proprio nel mercato Della musica Perché in quel pezzo Oltre ad aver portato Grazie anche alla gavetta E tutto quanto Con una certa credibilità Un pezzo Tecnicamente alto Molto forte E anche contro tendenza Rispetto a quello Che stava andando Da qualche anno In Italia Attacco Più o meno Abbastanza Esplicitamente Altri artisti O comunque Mando delle provocazioni Più che attaccarli Qualcuno L'ho attaccato proprio Qualcuno L'ho un po' Messo in mezzo In modo provocatorio Questa cosa qui Fa sì Che attiro tanto L'attenzione Se ne parli molto Poi faccio Poi faccio delle mosse giuste Quindi poi le cose Vanno bene Tutto quanto Però ecco Diciamo che Con quella cosa Io raggiungo Il successo Con quella Più altre mosse Giuste che ho fatto E faccio Raptus 3 E arriva il successo Dopo tutto quel tempo Mi rivolsa Devo arrivare il successo Devo tirarci fuori Da questa cosa Devo riuscire Eccetera Arrivo lì Ora Io mi sono sempre motivato Dicendo che devo arrivare lì Adesso che cosa succede? Ora che qui Sembra che Che ci sono arrivato Crisi totale In più Arriva la pandemia Non so Ho fatto uscire Qualche pezzo Dopo Raptus 3 Ma ero Proprio Disorientato Non sapevo bene Cosa stavo facendo Avevo iniziato Ad avere l'idea Di Habitat Ma non sapevo bene Dove Dove Incasellarla Come Né niente E a un certo punto Continuando Ad analizzarmi Poi se io Vado in terapia Da sette anni Quasi ormai Quindi Sto lavorando Su me stesso Da tantissimo tempo Con grande costanza Quindi continuando Ad analizzarmi E Scavando a fondo In questa crisi Scopro che in realtà Ho ancora tantissimo Da dire Anzi Che probabilmente È infinito Quello che ho da dire Perché non attingo più Alla mia storia personale Ma attingo all'amore Che ho Dentro E quando Ho iniziato Ad attingere A questo Ho cominciato Anche ad aprirmi Banalmente In una relazione All'amore Ho vissuto Un amore incredibile Di che anno Parliamo Del 2020 2020 2021 Che è ancora presente Questo amore Però ti ha aperto All'amore Totalmente Totalmente E mi ha fatto E mi ha fatto capire Tantissimo Mi ha fatto anche capire Infatti Che cos'è E che lo voglio Nella mia vita E quindi Quando inizio ad attingere A questo Dal punto di vista musicale Tutto diventa Un po' più chiaro Riconosco Meglio Gli altri Riconosco Chi sono Sempre di più Nel tempo Continuo A crescere In questo E quindi esce Mood Che piace molto Mi impunto Tanto perché Deve uscire Un unico mattone Non deve uscire Un singolo Prima Poi un altro Perché io faccio Roba molto diversa Un pezzo dall'altro Può essere molto diverso Quindi è importante Che esca Questo mattone Che sia un timbro Chiaro Di quello che faccio Le persone Non devono fraintendere Deve arrivare Chiaramente Che faccio questo Riesco molto Nell'intento E solo Undici mesi dopo Pubblico Doom Mi sbrigo tanto Perché voglio Continuare a battere Perché sto cercando Di costruire Una credibilità Un percorso Che mi porti Ad Habitat Questo è Il viaggio Che La visione Che avevo in testa Quindi dopo Undici mesi Ottobre 2021 Esce Doom Un discorso Molto sofferto Perché comunque Personalmente Stavo vivendo Anche tante Tante crisi Tante Comunque si tratta Di scavarsi Dentro Non è semplice E devo dire Che esco da Mood Esco da Doom Molto più ispirato Anche da Habitat Sempre molto più ispirato Di come sono uscito Da Raptors 3 E dagli altri Dischi precedenti Perché Ho chiaro Dove voglio andare E quello che succede Comunque Che inizio A rappresentare A capire meglio Chi voglio rappresentare Di che cosa Voglio parlare Cosa importante Nella vita Prima Volevo Semplicemente Farcela E uscire fuori Emergere Da questo oceano Che mi inghiottiva No? E a un certo punto Io sono molto Mi ritengo Molto fortunato Comunque Sono molto fiero Di essere riuscito A trovare La vera fonte Dal quale attingere Perché non Secondo me Non si esaurirà mai E infatti Che hai scoperto Essere inesauribile Io penso Tante volte Penso che probabilmente Può succedere Che il picco Della mia carriera Arriverà A 50 60 anni Magari Scriverò libri O Non so Farò altro Avendo le idee Molto chiare Artisticamente Parlando Hai un manager? Sì Sei gestibile Nel senso Se io parlassi Con lui E gli chiedessi Ma William È un artista gestibile Come mi risponderebbe? Ti direbbe Che sono un artista Con cui si può parlare Ok Con cui si può ragionare Sì Con cui si può ragionare Però Sono anche Molto Ferreo Non sono rigido Sono flessibile Sono aperto a tutto Però le idee chiare Però le idee È molto chiare E sono anche Nel mio lavoro Sono anche molto Duro Serio Nel senso che Inizio a Mi piace anche Come immagine Inizio a Richiedere tanto Perché io Sono veramente Dentro al 100% In questa roba Più che gestibile Sono gestore Ho un manager Che è anche Un mio caro amico Che è fortissimo Mi sta sul pezzo Su tutto Però io Sono molto inquadrato So quello che voglio Dove voglio arrivare Anche da un punto di vista Imprenditoriale Non solo da un punto di vista Artistico E voglio crescere Da un punto di vista Imprenditoriale E non solo Nella musica Perché voglio fare Cose belle E cose importanti E voglio Trasformare L'energia Dei soldi In qualcosa Di positivo Per le persone Quindi Prenderò Atto Del fatto Che la società Si muove In un certo modo E ci entrerò Nel modo giusto Senza snaturarmi O almeno Spero Questo A cui punto Capito Però si Sono molto Ragionevole Credo che ti potrebbe Succedere Qualsiasi cosa In futuro Tranne che snaturarti Perché su quel pezzo Sei estremamente Rigido Nel senso Lucido Nel senso Che non accetti I compromessi Mi spiace dirlo Per il mondo Delle intermediazioni Anch'io Delle aziende Dove gestiamo Artisti Ma credo Che gli artisti Più esigenti E apparentemente Più stronzi Siano gli artisti Migliori Perché hanno le idee Estremamente chiare Quando vedi I tuoi primi soldi Inteso Quando cominci A non aver più Il pensiero del denaro In che anno In che momento Nel 2000 A cavallo Tra il 2018 E il 2019 Inizio A fare I primi tour E firmo Il primo contratto Con una major Che era Sony In quel caso Lavoro ancora Con Sony E quindi Inizio sicuramente A guadagnare Bene Ma non mi rendo conto Effettivamente Di Come Quanto Quindi Mi portavo ancora dietro Quella storia Dove Aspetta un attimo Qua Io non sto capendo Non è che Inizio a ricevere Uno stipendio Da 5.000 euro Al mese Vengono dati Totti soldi Per quello Totti soldi Per quell'altro Anticipi Le tasse Insomma Devi saper gestire Il patrimonio Avendo avuto Quell'esperienza A 16 anni Prima di firmare Un contratto In major Ho fatto nove mesi Di riunioni Tra avvocato E commercialista Ho aperto La mia società Ho scelto La tipologia Di contratto Migliore Per me Per le mie esigenze Da attuare Con Sony Quindi ho fatto Tantissimo lavoro Perché Questa volta Non tralascerò Nessun dettaglio Ho pensato Vedi che è stato Formativo Esatto Infatti Ti faccio una domanda Nella tua follia creativa Ha un'accezione positiva Quello che ti sto dicendo Sento un tuo pezzo Non ricordo il titolo Dove tu parli Dici anche cose Molto fighe Per un minuto E qualcosa Poi fai tre minuti Di silenzio E ad un certo punto C'è una conversazione Con un signore Dove Parlate di sesso Lui te ne parla Come una grande metafora Della vita E poi Concludi parlando Di Habitat Adesso non ricordo In quale album fosse E quale fosse Il titolo della canzone Aiutami È partenza Perfetto Di sesso voglio parlare Sì Perché anche In un'altra intervista Non ricordo Se era quella di SM Magazine Dell'anno precedente Lo metti come un punto Centrale nella vita Che ti dà buone vibes Le dà a tutti Però è come se ti desse Qualcosa in più Hai parlato dell'amore Ti ha dato un'enorme apertura Ti sei reso conto Di quanto fosse Una fonte inesauribile Ma il sesso Ti dà un altro elemento Raccontami il rapporto Che hai col sesso Che ruolo ha Nella tua vita Mi piace molto Parlare di sesso Sai Cioè Per me Il sesso Forse è al primo posto Dei piaceri Della vita Sono sempre stato Molto passionale L'ho scoperto subito Sono stato subito In contatto Molto precocemente In contatto Con la mia sessualità E per me È ancora un mondo Interessante Curioso Da È ancora misterioso Da approfondire E cerco di farlo Lo tratto Il più possibile Perché Forse perché Mi fa sentire Così vivo Io quello che dico È che per me Nella vita Le cose principali Questa è una cosa Questa è una cosa che ho letto Sempre Anzi Anzi Cioè nel senso So dosarlo Mi piace aspettare Mi piace quando qualcosa Mi manca Perché ti vuoi godere il momento Sì nel senso Non ne sono ossessionato Però Ne sono Un po' Innamorato Sì Cioè per me È una cosa Super stimolante E sono interessato Anche ai motivi Dietro Al perché Di tante cose Si tratta tanto Il tema Della libertà Sessuale In quest'epoca E trovo che Sia molto bello Quello che è noto È che si Prende poca Consapevolezza Del perché Perché Io ho un gusto Piuttosto che un altro E perché Quella cosa La giudico E perché E perché E perché Può succedere Ad esempio Che noi Trasliamo Un dolore Che abbiamo provato Magari in età Infantile Nel sesso Perché non avevamo Le capacità Per affrontare Quel dolore E l'abbiamo fatto Diventare piacere Cioè Questo è un piccolo esempio Di quello che Succede Da piccoli Con l'energia Sessuale Con il dolore Con tutta una serie Di cose Io sono molto Appassionato di psicologia Tantissimo E Nel sesso Trovo Tante domande Interessanti Tante verità Interessanti E un po' Soffro il fatto Che in Italia Ci sia Un po' Una chiusura Una Un senso Di vergogna Più che di pudore Perché il pudore È cosa buona E giusta Figuriamoci In questa società Non è che Però c'è Troppo Questo senso Di vergogna Autocritica Mi sembra Che le persone Se si Espongono troppo Anche col proprio Partner Si autogiudicano Si sentono Peccatori Peccatrici Invece Secondo me Dovremmo Abbracciarla Molto di più Questa cosa E poi andare a fondo E capire perché E capire se effettivamente Poi quella roba è sana O meno Se possiamo farne a meno Cioè C'è tanto Capito E di queste cose Non se ne parla Ti faccio una domanda Rispetto a questo Credo che Il sesso E l'amore Fare l'amore Sia un Meraviglioso dialogo Con il corpo L'uno dell'altro Se tu trovassi Una persona Che mentalmente Ti piace molto E sessualmente Non per una questione Di performance Ma a volte È semplicemente Di incompatibilità Quindi non è una questione Di modalità Di incompatibilità Cosa fai? Ti fermi lì Perché sai che Non avrà futuro Quella relazione E quindi subisci Quest'incompatibilità Sono molto curioso Di sapere come la pensi Mi fa molto paura Questa cosa qui In realtà Perché Io l'ho notata Succedere A tante persone Questa cosa qui Cioè Tu immagina Che ne so Faccio proprio Un esempio stupido Come dici tu L'incompatibilità Immaginati che Una ragazza Ha La fantasia Sessuale Molto accentuata Di Fare sesso Con più persone Contemporaneamente Se si innamora Di un ragazzo Che questa cosa Non la sposa E non potrebbe Magari neanche dirgliela Cioè Che cosa fa? Che cosa fai? Ah no scusa Ti amo Però io Ho questa cosa qui E a te non va bene Quindi ci dobbiamo lasciare Cioè Non è mai Così netta Il comportamento La scelta Però se non riesci Ad accompagnare Il tuo partner In quel percorso Ti stai precludendo La tua libertà E infatti Che succede Che per quello Io trovo Che sia fondamentale Lavorare su se stessi Cioè Andare Più a fondo Delle proprie verità Perché se tu Fai finta di niente Quando arriva l'amore La verità esce fuori E se tu Non sei in grado Di affrontarla Non Chiarissimo Quindi A me fa molto paura Perché Per me L'argomento del sesso È una cosa Fondamentale E sono anche Una persona integra Quindi Non mi fidanzerò Non mi impegnerò Con una ragazza Per poi tradirla Non è quello Che voglio fare In nessun modo Questo cliché Questa Narrativa Che continuiamo A portare avanti Da sempre Io parlo Mi è capitato Crescendo di parlare Con persone Molto più grandi Di me Uomini Di 50 60 anni Che a un certo punto Tutti ti dicono Beh a un certo punto Occhio non vede Cuore non duole Ma Possibile mai Poi non lo so Magari crescerò E dirò No per me Non è possibile Questa cosa Però Io sto cercando Di andare a fondo Cercare di capire Gestire Anche E avere un po' Più di controllo Non lasciarsi Prendere dagli istinti Quando ero più ragazzo Come tutti Magari Ho fatto I miei errori Le mie cavolate Però poi Mi sono reso conto Di quanto per me Sia importante Avere la coscienza pulita E comportarmi bene Con gli altri Guarda io ho 46 anni Visto che parlavi Del futuro Io sono assolutamente Di quella fazione lì Perché un tradimento È una preclusione Della propria libertà Non puoi vivere Liberamente La tua vita Perché ti devi Nascondere Dietra delle bugie Esatto Neghi una parte Di te No Assolutamente Sì E quella parte Che neghi Soffre E quindi Tu soffri E te lo infliggi Da solo Questo dolore Questo è Masochismo Capito In più Sai L'altra volta Leggevo O forse Avevo visto L'intervista Di una persona Non mi ricordo Chi è Che parlava Di come Le persone Non se ne accorgono Ma non vogliono Veramente Quello che desiderano Hanno sempre bisogno Di tenere Quello che desiderano Lì Lontano Per desiderarlo Nel momento In cui Lo ottengono Ad esempio Io Mi lascio Con mia moglie Finalmente Per restare Con La mia Amante A un certo punto La maggior parte Delle volte Con l'amante Ti lasci Certo Finisce E se ne va anche lei E rimani solo Allora ti rendi conto Che era molto più Complicato Di come tu ti immaginavi Ma noi non riusciamo A Farlo prima Questo E invece Per questo bisogna Raggiungere Comunque una certa Consapevolezza Essere onesti Con se stessi Se non ci conosciamo Io Allora Sia chiaro Io non sto Alla ricerca Del controllo Non voglio questo Non esiste Il controllo Cioè È una battaglia Persa Però Ho una Coscienza Fammi divertire Con questa Capito Cioè Vediamo dove posso Arrivare Oggi che l'umano Ha una coscienza E può prendere atto Della propria esistenza E dell'esistenza In generale Che cosa posso fare Mi chiedo Switchiamo E siamo quasi In fondo All'intervista In una parte Più ombrosa Sono particolarmente Interessato Perché l'ho L'ho vissuto E lo sto ancora In parte Vivendo Attacchi di panico Sì Sai di cosa si parla? Certo Mi racconti La tua esperienza Io ho iniziato Ad andare in terapia Proprio per questo Fin da quando ero piccolo Barie volte Mi dovevo allontanare Da mia madre Da casa Proprio da casa Perché mia madre Lavorava Non poteva tenermi Quindi magari Andavo da solo Con il pullman Da mia nonna Da Roma Fino A un paesino In Molise E oppure Magari andavo In Colonia Ogni volta Che arrivava la sera Io stavo male E volevo tornare a casa Stavo Malissimo Abbiamo sempre pensato Che fosse semplicemente Un attaccamento Forte A mia madre O comunque A casa mia Era un po' Un piagnone Da quel punto di vista In realtà Io stavo Veramente Male Ok E più Ho cominciato A crescere Più questo problema Ha cominciato A farsi sentire Magari Mentre andavo In vacanza Con i miei amici Come si manifestava Arrivava sempre Verso gli inizi Sempre la sera La prima sera Di quando arrivavo In un posto nuovo Quando cala il sole E quindi Arriva la notte Arrivava sempre Questo senso Di inquietudine Stavo Ero agitato Volevo tornare Delle volte Mi capitava Di andare al bagno E bere di stomaco E poi purtroppo Io Ho detto Vabbè Non voglio Smettere di viaggiare Ero innamorato Di viaggiare In realtà Sono sempre stato Innamorato Di questo Però Diventava sempre Più frequente E sempre Più debilitante Tant'è che A un certo punto Mi sono ritrovato Che non potevo Viaggiare Più di una notte Perché se viaggiavo E stavo una notte Sapendo che il giorno Dopo tornavo Era ok Se no A un certo punto Anche una notte Ha cominciato A diventare A un certo punto Non riuscivo Neanche più Ad andare a dormire A casa di un amico A Roma Quindi Nella mia città Senza che io Fossi Parecchio inquieto Hai analizzato Perché Nel senso Avevi paura Non essendo Nelle tue mura Se ti fosse successo Qualcosa Di non poterti salvare Cioè Qual era Psicologicamente Il pensiero Io avevo paura Prima di tutto Di non sapere Dove andare Se mi succede Per qualche strano motivo Mi Mi fosse successo qualcosa Non avrei saputo Dove Come muoverti Come muovere Che comunque Che è mentale Perché ti succede a caso O altrove Sei sempre in un posto In cui Puoi intervenire Nello stesso modo O non intervenire Perché devi andare In ospedale O da qualsiasi altra parte Esatto Ma poi Avevo proprio Dei pensieri Avevo proprio Questa sensazione Che Mia madre I miei amici Il mio cane Sarebbe successo Sarebbe successo Qualcosa di brutto Cercando Cercando di calmarmi E dicendo Devo dormire Devo dormire E domani Torno a casa Stavo malissimo E a un certo punto Quindi ho deciso Di Avevo già avuto Delle esperienze Di terapia Da giovane Ma Inizio ad andare In terapia Per questa cosa qui Provo con una terapeuta Ma non mi ci trovo E poi a un certo punto Riesco a trovare Quello che oggi È il mio attuale Terapeuta E faccio un tipo Di terapia particolare Tra l'altro io Molto rara Che si chiama Vegetoterapia Ok Nella quale credo tantissimo Perché oltre a lavorare Le sedute non sono Di 50 minuti Sono di un'ora e mezza E oltre a lavorare Su Da un punto di vista orale Sui miei problemi Su Sui miei pensieri Più che problemi Faccio anche Dei cosiddetti Acting Che mi permettono Di sbloccare Dei blocchi Che ho fisici Cerco veramente Di semplificartelo Lo più possibile Anche perché Le emozioni Sono un fenomeno Fisico Poi c'è il processo Mentale Sono un fenomeno Fisico Emos Emettere Da dentro a fuori Quando sei felice Sorridi Quando sei triste Ti escono le lacrime Quando sei arrabbiato Serri la mandibola Stringi i pugni Quando sei piccolo E ti succede qualcosa E non sei in grado Di affrontarla O gestirla Tiri su un muro Una corazza Perché se no Impazziresti Proprio Non c'è altro Impazziresti E quindi Tiri su questa corazza Per non impazzire Ma poi cresci La tua struttura Si forma E tu poi Le capacità Di affrontare Certi traumi Certi problemi Le acquisisci Solo che la corazza Rimane La corazza Ti fa sentire Meno Un taglio Una pugnalata Ma non sentire Anche una carezza Un abbraccio Un bacio Ed è questo Il motivo Per cui siamo Questa società Narcisistica No? C'è un'immagine O razionale Che ti ha poi Convinto del contrario Perché a volte Quando ci prende Quel momento E ci pensiamo Intensamente Lo amplifichiamo Molto Quindi magari Ti dici Ho paura di svenire Ho la tachicardia Mi verrà un infarto Ma poi ti rendi conto Che non succede niente Di tutto questo Sei tu che ti stai Immaginando il film Peggiore nella tua testa Andando in terapia Sei riuscita a vedere Una cosa che ti ha convinto Dell'esatto opposto E quindi Autocalmarti sempre Ogni volta che sentivi Quella sensazione Io Ho Non è Non è tanto Vedere una cosa In particolare E acquisire gradualmente La consapevolezza Che Prima di tutto Che non posso avere Il controllo Della situazione E non è Un problema Non avere il controllo Della situazione Poi che le responsabilità Non sono tutte Su di me Io non devo salvare Nessuno Questo delirio Di onnipotenza Ci rinuncio Volentieri A questa cosa E paradossalmente Mi rende più forte Più potente Ovviamente E questo Quello che ho Interiorizzato Nel tempo In due anni circa Ho superato quel problema Un anno e mezzo Due anni Ho superato quel problema Ho ricominciato a viaggiare Ovunque Anzi adesso Faccio fatica A fermarmi Ogni tanto Ma non ogni tanto Dopo la pandemia Essendo stato fermo Per tanto tempo Io circa un mese Due mesi fa Sono stato a Tokyo Non avevo mai Viaggiato così lontano E non viaggiavo fuori Dall'Italia Da prima della pandemia Quindi ero molto Agitato Al pensiero di In realtà Mi sono portato Qualche strascico Di quello che ho vissuto Negli anni precedenti Su questa cosa qui Ma in realtà La cosa bella È che faccio Continuamente esperienza Del fatto che ho sempre Le risorse per gestirlo E basta Non è che non bisogna Avere ansia nella vita Ci può stare Che ogni tanto ti prende Normalizzarlo Sì Darci meno responsabilità Rispetto a quella cosa È la cosa In maniera molto più leggera La domanda ultima è Qual è il grande desiderio Che tu hai per il futuro Che potrebbe appagare Veramente il tuo cuore La tua anima Ma il mio desiderio Sono tantissime le cose Che vorrei fare Per gli altri Grandissime Arrivare Chissà dove Tutto Ma in realtà Il mio unico sogno È Riuscire A far trionfare L'amore E questo Si concretizza Nel trovare qualcuno E riuscire A Parlo soprattutto Di una donna E Di riuscire Ad amarla In maniera onesta E di vivere L'esperienza Di essere padre E di continuare E di continuare Di non pensare solo a me Di continuare A non pensare Solo a me Nel modo più grande Possibile Abbiamo finito Grazie William Grazie a te Vi ringrazio per essere arrivati fin qua Fin alla fine di questo episodio Che spero vi abbia restituito Stimoli Delle belle vibes Vi siate identificati Medesimati E vi abbia potuto dare Degli strumenti Per potervi riconoscere Per poter andare avanti Per poter cadere meglio Qui intorno a me Vi suggerirò sempre Alla fine di ogni episodio Delle altre interviste Affini all'argomento Che abbiamo toccato Buona visione